ancora sangue sulle strade a Cagli un morto e cinque feriti vandalismi a Vismara quartiere sempre più esasperato omicidio pansieri nuovi sviluppi sulla detenzione di Alessandrini nuovo ospedale di a Pesaro anche a Quaroli sarà il consiglio comunale di lunedì la ruota panoramica saluta la palla di pomodoro buona serata e bentornati al nostro Rossini News dopo un giorno di pausa dedicato alla ricorrenza di ogni santi e purtroppo è stata una festività funestata da un altro incidente mortale sulle nostre strade in questo caso quella di via Mamelli che collega Cagli a Pergola dove ieri pomeriggio ha perso la vita Lorenzo Candeloro 66enne di frontone per cause ignote la Toyota Yaris su cui viaggiava in solitaria ha invaso la corsia opposta finendo per scontrarsi frontalmente con una Dacia Duster con a bordo cinque persone appartenenti allo stesso nucleo familiare quattro di loro sono stati portati al pronto soccorso di Urbino con ferite lievi più grave invece una donna di 81 anni trasportata all'ospedale Torrete di Ancona Lorenzo Candeloro è stato invece estratto senza vita dall'abitacolo della sua auto. È stata una notte di Halloween ricca di vandalismi nel quartiere pesarese di Vismara si tratta di episodi di microcriminalità che continuano a ripetersi in questa zona con residenti sempre più esasperati vediamo il servizio. Ancora vandalismi ancora bravate giovanili che sconfinano ai limiti della microcriminalità e ancora una volta ad essere preso di mira è il quartiere di Vismara e in particolare il parco di quartiere tra via Basento e via Lambro dove ci troviamo ora e dove nella notte tra martedì e mercoledì c'è stata una serie di danneggiamenti dalle telecamere di Velte a danneggiamenti alla centralina elettrica ai bidoni fino alla distruzione della Little Free Library la piccola libreria della Onlus Gulliver che sarebbe dovuta essere inaugurata il prossimo 10 di novembre. Una situazione problematica che continua da tempo e sulla quale si è espresso così il presidente di quartiere Claudio Salucci. Un disastro dalle telecamere rotte che sorvegliano il parco alla casetta che dovevamo inaugurare il 10 di novembre con il Gulliver che ce l'aveva donata la casetta per la libreria e hanno rotto con dei petardi importanti anche dei contenitori della spazzatura, hanno rotto anche sotto il gazebo dove abbiamo fatto questo gazebo per fare in modo che la gioventù e i ragazzi si possano un attimino riparare d'inverno anche per migliorare il parco tutto quanto ma purtroppo questo è un parco che deve essere sorvegliato di più e con le telecamere che ci sono e queste persone che vengono prese anche se sono minorenni in qualche modo dovremmo fare un qualcosa per fare pagare o ai genitori o a loro se sono maggiorenni perché non è possibile che noi del quartiere o il comune debba sempre sopperire a questi atti vandalici che purtroppo qui in zona succedono tutti i giorni, tutti i giorni noi abbiamo delle problematiche, troviamo delle biciclette rotte, ci sono dei segnali anche qui vicino rotti, schiantati, penso alla notte di Halloween perché ci sono dei segnali dell'attraverso i pedonali che qui nell'arco di 100 metri gli attraversamenti pedonali non ci sono, con questi o con un bastone che adesso abbiamo portato via era un palo hanno diverto le telecamere, io mi auguro che chi di competenza questa volta riesca a trovare qualcuno o vedere chi è stato perché tanto chi è andato vicino anche per romperle io penso che le telecamere ve le abbiano ripresi. Le immagini che vi mostriamo ora sono state registrate questa mattina quando poco dopo le nove e tutti gli uffici del palazzo dell'agenzia delle entrate di Pesaro sono stati evacuati per un allarme incendio che ha riversato nel parcheggio di via Mameli un centinaio di persone in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco arrivati sul posto con due automezzi assieme alla polizia locale sopra luoghi dei vigili del fuoco che hanno accertato come si sia trattato di un falso allarme innescato presumibilmente da una sigaretta accesa in luoghi non consentiti. Ed ora cambiamo argomento torniamo ad occuparci dell'omicidio del pesarese Pierpaolo Pansieri avvenuto lo scorso febbraio. Da qualche settimana l'omicida reo confesso Michael Alessandrini è stato trasferito dal carcere di Ascoli a quello di Villa Fastigi ma è stato avviato un supplemento di indagine per valutare se la reclusione sia compatibile con la sua situazione mentale. Nuovi sviluppi sulla detenzione di Michael Alessandrini trentenne pesarese omicida reo confesso dell'uccisione a coltellate di Pierpaolo Pansieri lo scorso 20 febbraio. Un delitto che avvenne al termine di una cena in casa della vittima in via Gavelli in pieno centro storico pesarese. Dopo la perizia psichiatrica che lo scorso 8 settembre ha dichiarato la semi infermità mentale dell'arrestato il giudice ha mantenuto Alessandrini in carcere senza prevedere quella possibilità di reclusione in una rems che avrebbe potuto far presupporre un'eventuale dichiarazione di totale incapacità di intendere di volere. Carcere che nel frattempo è diventato quello di Villa Fastigi e non più quello di Ascoli Piceno dove Alessandrini aveva vissuto i primi mesi di reclusione. Villa Fastigi che l'avvocato difensore Salvatore Asole reputa però una struttura non compatibile alle esigenze di salute mentale del suo assistito che a quanto si apprende sta pure rifiutando il trattamento terapeutico. Nei giorni scorsi però la documentazione arrivata dal carcere ha portato il GIP Antonella Marrone a chiedere un'integrazione della perizia precedentemente eseguita. Non ci sarà nessuna visita aggiuntiva ma un supplemento di indagine sulla base dei documenti prodotti dalla direzione del carcere. A metà dicembre è attesa la risposta ulteriore sul mantenimento o meno in carcere di Alessandrini o su un eventuale dietrofronte verso altra struttura reputata più idonea. Il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini e la direttrice generale dell'azienda sanitaria pesarese Nadia Storti parteciperanno al consiglio comunale di Pesaro di lunedì 6 novembre. Consiglio che sarà monotematico per avere delucidazioni dai vertici della regione sulla situazione riguardante il progetto del nuovo ospedale e le altre problematiche di sanità ad esso connesse. Arriva un bando regionale da 15 milioni di euro che porterà fondi agli alberghi marchigiani che intendono riqualificarsi e ammodernarsi. Un intervento sollecitato da tempo dal consigliere regionale Andrea Biancani che abbiamo intervistato ai nostri microfoni. Andrea Biancani arriva a un bando da 15 milioni di euro per riqualificare le strutture recettive delle Marche, una cosa che lei aveva da tempo auspicato per dare un salto di qualità aggiuntiva alla nostra offerta ricettiva regionale. Sì, ormai sono anni che continuo a presentare interrogazioni in consiglio regionale dove chiedevo alla regione di prevedere risorse appunto per riuscire a fare un nuovo bando. Nell'ultima risposta che avevo avuto nel marzo di quest'anno ancora le risorse non erano state stanziate e quindi avevo avuto una risposta negativa. Invece i giorni scorsi c'è stata una risposta positiva dove la regione Marche ha previsto grazie a fondi ministeriali, questo lo voglio dire, per il 2024 un nuovo bando per riqualificarle, alberghi, bed in breakfast, tutti quelli che fanno accoglienza turistica in generale con un bando di 15 milioni di euro. Ricordo che nel 2017 come regione Marche il precedente governo aveva fatto un bando, avevano partecipato a livello regionale oltre 300 strutture recettive, di queste circa 150 avevano avuto un contributo importante da parte della regione, oggi quindi c'è necessità di fare un nuovo bando. È chiaro che i privati hanno voglia di investire, sono disponibili a investire ma hanno bisogno di un sostegno. Il turismo marchigiano fa parte importante per l'economia del territorio, abbiamo visto che però i turisti hanno internazionali, cioè oltre a essere internazionali, molti vengono da fuori Italia, quindi europei ma anche da fuori Europa, chiedono strutture sempre più di qualità con servizi in grado di fornire quei servizi che molti alberghi in giro per il mondo riescono a dare. Quindi gli investimenti sono importanti ma ricordo che il turismo è anche un'occasione di lavoro per migliaia di marchigiani e quindi riuscire a implementare il turismo, migliorare i servizi rendendoli sempre più di qualità è anche un'opportunità di lavoro importante per il nostro territorio. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni che come sempre vi invitiamo a mandarci sul numero whatsapp 370-366-7210. Ora vi mostriamo immagini che ci hanno inviato alcuni nostri telespettatori e che documentano la fila chilometrica di questa mattina alla stazione degli autobus di Pesaro, fila che si verifica ad ogni inizio mese per il rinnovo degli abbonamenti ai mezzi pubblici. Segnalazioni in cui gli utenti invitano Adria Bus a trovare al più presto una soluzione, una soluzione più pratica come quella della sottoscrizione degli abbonamenti online. Un'altra segnalazione invece ci arriva dal consigliere di quartiere di Pantano Marcello Valdinocci che critica le asfaltature cominciate questa mattina in Viaggiolitti, lavori che a suo dire non sono stati accompagnati da adeguati avvisi, una situazione che ha finito per creare disagi, code e anche multe. L'assessore comunale di Pesaro Mila Della Dora annuncia una delibera volta a riqualificare i 3.000 metri quadrati di spiaggia nel lato sud di Viale Trieste da tempo utilizzati per il beach volley e beach tennis. Il comune prevede infatti lavori per mezzo milione di euro volti a migliorare ulteriormente quest'area con un fabbricato volto ad accogliere un punto ristoro, spogliatoi, servizi genici, un nuovo campo da paddle, un nuovo campo da basket 3 contro 3 e la sistemazione dei sei campi di beach volley esistenti. Le associazioni di categoria pesaresi si sono riunite oggi insieme all'assessore a Francesca Franquellucci per alcune linee d'azione sull'allestimento del prossimo Natale è ufficiale il dietrofront dall'iniziale ipotesi di collocazione della pista di ghiaccio in largo Aldomoro, una situazione che risultava sgradita sia a commercianti che a residenti. La pista quindi verrà collocata nell'area di parcheggio dei ciclomotori di piazzale Matteotti. Piazza del Popolo sarà invece occupata dal palcoscenico per l'evento di capodanno, dal maxialbero e dal consueto mercatino natalizio. Attrazioni che si preparano e attrazioni invece che salutano la città di Pesaro, questo è il caso della ruota panoramica che ieri ha vissuto il suo ultimo giro alla Pala di Pomodoro e che oggi è stata smontata. Nella serata del primo novembre è arrivato l'ultimo giro di ruota. Dopo quasi quattro mesi leva le tende la ruota panoramica dall'area verde alle spalle della Pala di Pomodoro. Questa mattina operai e mezzi meccanici erano al lavoro per il via alle operazioni di smontaggio dell'attrazione inaugurata a Pesaro lo scorso 8 luglio e che in 116 giorni di permanenza ha visto centinaia di cittadini e turisti salire a bordo incuriositi dal gettare lo sguardo fra litorale e mare adriatico dall'alto dei 35 metri della ruota. Per Pesaro è stato il terzo esperimento di variazione al suo skyline balneare dopo le precedenti esperienze con la torre panoramica di 75 metri e ristorante a 50 metri d'altezza di Diner in the Sky. La ruota panoramica della società Parisi trasloca ora verso una destinazione più invernale. Ancora da valutare se con Pesaro sarà un addio o un arrivederci. Ed ora ci occupiamo di un approfondimento sulla tematica di prevenzione ai furti nel nostro territorio e allora lo facciamo in compagnia di Alessandro Giuliani amministratore unico di Vigilar Società Leader in questo settore. Abbiamo oggi ospite dei nostri studi Alessandro Giuliani titolare di Vigilar Società Leader nei servizi di vigilanza privata nella provincia di Pesaro Urbino e di Rimini. Chiediamo a Giuliani intanto una percezione del settore sicurezza nel nostro territorio. Per quanto riguarda i furti abbiamo un osservatorio particolare che è la nostra centrale operativa cioè quanti allarmi riceviamo e poi quanti sono reali o piuttosto dei falsi allarmi per cui inviamo sempre la nostra guardia giurata, la pattuglia che controlla se è un furto reale, se ci sono dei malintenzionati che stanno rubando. Furti veri e propri ce ne sono ovviamente ma più o meno nella norma non c'è un incremento, ci sono dei periodi che magari aumentano soprattutto nel periodo estivo dove si lasciano le finestre, le porte un po' più spalancate per il caldo e quindi in quel periodo aumentano. Adesso stiamo andando in un altro periodo dove storicamente, statisticamente aumentano, cioè il periodo novembre-dicembre prima delle festività natalizie dove chi ha i ladri generalmente fanno un po' di provvista di soldi quindi aumentano i furti. La soluzione è quella di proteggersi, di fare prevenzione, quindi di installare chi non ce l'ha già un impianto d'allarme, delle telecamere e se è possibile anche collegarsi con un istituto di vigilanza come il nostro che garantisce un osservatorio del proprio impianto d'allarme e delle telecamere 24 ore su 24, quindi quando c'è la minima percezione che ci può essere un'intrusione interveniamo con le nostre guardie giurate sul territorio. Il cliente è un cliente che ha la lungimiranza di prevenire e attivarsi con la realizzazione di un impianto oppure deve prima, come si dice, sbatterci il muso, essere derubato e poi riparare? Purtroppo sì, purtroppo si chiudono i cancelli quando i buoni sono già usciti, quindi quando subisce il furto si accorge che proteggersi è un vantaggio, quindi il mio consiglio è sempre quello di anticipare, mettere un impianto d'allarme che è contrariamente a quello che si pensa dei costi molto accessibili, un impianto d'allarme costa tra i 1000 e i 2000 Euro secondo dei rilevatori che si vanno a montare, quindi se lo possono permettere tutti e noi applichiamo anche delle condizioni di noleggio dove chi non ha un impianto paga un canone di 50-60 Euro e c'è compreso sia il noleggio dell'impianto, l'installazione, l'assistenza tecnica e l'intervento di una guardia giurata 24 ore su 24. Vigilare una società con sede a Fano che dalla provincia di Peso Rubino nelle anni si è allargata anche a quella di Rimini, due territori ampi e delicati, anche la provincia di Rimini è particolarmente sensibile al discorso criminalità, le chiedo quale sono la tipologia di clienti sui quali lavorate principalmente? La nostra tipologia di clientela è mista, abbiamo dalla piccola attività commerciale, il piccolo negozietto alla grande azienda dove facciamo anche installazione di impianti complessi con dei nostri tecnici diretti, quindi telecamere, impianti d'allarme, antincendio e tutta la tecnologia che andiamo a installare fino al privato. Il privato è molto interessante perché? Perché siamo l'unico istituto, provincia di Rimini, provincia di Peso che garantisce il pronto intervento 24 ore su 24, diciamo che è un servizio che viene apprezzato soprattutto dai privati perché le persone di solito di giorno sono al lavoro, sono a scuola, quindi le abitazioni sono vuote e garantire una sicurezza con un impianto d'allarme attivo dà tranquillità al privato che si può permettere lo stesso un euro al giorno o due euro al giorno per collegarlo all'istituto di vigilanza e ad avere un pronto intervento anche di giorno. Rimini è un po' particolare, intanto è la provincia e il comune col più alto tasso di furti perché ovviamente aumenta esponenzialmente d'estate la popolazione per cui è quello che ha bisogno più di sicurezza. Sono tre anni che abbiamo aperto la nostra unità su Rimini e ci sta dando grosse soddisfazioni, tra l'altro soprattutto nel periodo estivo, abbiamo tutte le spiagge dal Bagno 1 al 150 e poi anche quelle di Riccione, del comune di Riccione dove noi garantiamo la sicurezza attraverso dei quadri. Un'azienda in espansione inevitabilmente cerca personale, è anche il caso di Vigilar? Sì, anche noi siamo continuamente alla ricerca di personale e sono aperte la ricerca di posizioni di guardie giurate, se la persona, uomo o donna che sia, ha già i titoli di guardia giurata a titolo preferenziale perché assumiamo ogni settimana persone e siamo perennemente in selezione, per cui stiamo cercando, siamo arrivati a 130, 140 dipendenti e in stagione arriviamo anche in 160-170, per cui per offrire un servizio adeguato ricerchiamo persone che formiamo, che affianchiamo ai vari servizi che ci sono e cerchiamo guardie giurate, addetti al portierato quindi personale non armato, tecnici e anche commerciali perché poi per crescere è necessario anche vendere i servizi e lo facciamo con personale nostro, degli agenti nostri che spiegano quella che è la nostra filosofia e quello che è il nostro concetto di sicurezza. E concludiamo questa edizione con gli aggiornamenti dello sport perché ieri si è giocato il turno infrasettimanale nella massima serie di calcio a 5 e pallavolo. Buon pareggio per l'Ital Service Pesaro che a Catania va sotto 2-0 dopo un pessimo primo tempo che ha un'ottima reazione nella ripresa pervenendo al 2-2 con i gol di Andrè e Denner. Nemmeno il tempo di rientrare dalla Sicilia che già domani si torna in campo al Palamegabox per il match con la Sandria Bate che si disputerà alle 20.30. Pala Sport di Campanara in cui ieri ha perso la Megabox Vallefoglia battuta da Chieri in 4-7. Match che ha visto Chieri vincere il primo set per 22-25. Megabox che risponde con un 25-18 ma poi cade nel terzo e quarto set per 22-25 e 23-25. E continuiamo ancora a parlare di sport su Rossini TV perché questa sera alle 21.20 saremo in diretta. La nostra Elisabetta Ferri intervisterà Stefano Cioppi e Michele Maggioli. Ci sarà lo spazio per tutti i vostri messaggi che potrete inviare al 370-366-7210 oppure scrivendo nella diretta sulla nostra pagina Facebook. Potrete vincere i biglietti per la prossima partita che vi ricordo sarà questo sabato alle 20.30. E poi vi ricordo anche la rassegna stampa di domani. Vi aspettiamo quindi in diretta alle 7.20 e poi vi ricordo anche tutti gli orari delle repliche. Questa stessa rassegna la potrete rivedere alle 8.20, a mezzogiorno e 20, sempre della giornata di domani, 14.20 e 18.20. E adesso vediamo come sarà il meteo per i prossimi giorni. Io vi auguro una buona serata.